Il Cilento, nuovamente, set cinematografico. Il regista Umberto Squitieri della casa di produzione Scenaut sta preparando una nuova opera cinematografica che sarà interamente girata ad Alfano, nell'area interna del Cilento. Questo lavoro però è solo uno dei tanti a cui il regista sta attivamente lavorando. Siamo reduci dalla conclusione della ricerca di location per il prossimo film, Un sogno durato un giorno, che è tratto dalla mia commedia musicale, Un sogno durato un giorno, che debutterà a breve. Permettetemi di ringraziare il Comune di Alfano e l'amministrazione del Comune di Alfano e il luogo dove abbiamo trovato le location giuste per il nostro prossimo film per l'accoglienza e veramente per la disponibilità con cui hanno deciso di appoggiare il nostro progetto. Dal punto di vista logistico, dal punto di vista organizzativo, si sono messi a completa disposizione di quello che intendiamo realizzare. Ovviamente è un film ambientato nella terra cilentana, parla della storia del Cilento, ma non è solo un film sulla storia del Cilento o su quello che è stato il momento di passaggio a cavallo dell'Unità d'Italia. È una storia di amicizie, di amicizie tradite, è una storia d'amore. Ci sono diverse componenti sulle quali si può piazzare il focus dell'opera. Chiaramente siamo in una fase organizzativa e quindi non abbiamo ancora stabilito l'inizio delle riprese, ma è un buon punto di partenza quello di aver trovato un luogo, dei luoghi adatti e un'amministrazione che ci appoggia. Chiaramente il film sarà prodotto con fondi privati, stiamo chiudendo delle sponsorizzazioni e ne stiamo cercando altre. Questo è un altro delle cose che ci può far ritardare nell'inizio delle riprese, che presumibilmente saranno per la tarda primavera. Questo anche in funzione di alcuni miei impegni che mi vedono un attimino non ancora in possibilità di dedicarmi al 100% a questo progetto. Debutterò a Napoli il 21 di aprile con un libero adattamento del regista Roberto Strati da un testo nella solitudine dei campi di Cotone di Cortes. Pochi giorni fa mi è stata assegnata la regia di una commedia musicale di Anna Maria Monaco, un'autrice di Buccino, che ha fatto un ottimo lavoro antropologico sul linguaggio e sulla tradizione della narrazione orale. Addirittura ha avuto la fortuna di ascoltare da una memoria vivente la signora Antonietta, 99 anni, che ancora ricorda a memoria tutti questi canti da cui l'opera di Anna Maria Monaco è tratta, il titolo è Frun Rauliva. Insomma, siamo partiti, è un buon momento produttivo, cerchiamo di arrivare a fine di ogni progetto.